Il tempo per presentare ricorso ed ottenere Barletta come unico capoluogo di provincia è quasi scaduto. E' questo il messaggio lanciato dal Comitato di lotta per Barletta provincia al sindaco Cosimo Cannito. Una lunga lettera è stata inviata dall'associazione guidata da Domenico Vischi all'amministrazione comunale a cui si chiede quali siano le reali intenzioni in termini politici e burocratici. Il Comitato di lotta rimarca la scadenza del ricorso tra 180 giorni dopo la quale verrà cristallizzata la provincia a tre capoluoghi come lo è attualmente. I firmatari della lettera sottolineano l'importanza dell'accentramento degli enti provinciali a partire dalla questura attualmente operativa ad Andria. A ciò si aggiunge la sede legale della BAT anch'essa nella città federiciana così come la costruzione del futuro ospedale di secondo livello sempre in territorio andriese. I punti toccati dal Comitato evidenziano il ruolo di città polo che Barletta ha avuto nel corso degli anni pronta a questo punto la risposta da Trani con l'allarme lanciato direttamente da Raimondo Lima. Il rappresentante della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia ha richiamato l'attenzione delle istituzioni tranesi in un comunicato chiedendo alle autorità politiche di smorzare queste velleità e attenuare un campanilismo dannoso per il territorio. Nessuna risposta per il momento dagli ambienti andriesi.